Quali risposte offre il servizio sanitario in questo periodo di festività? Ne parliamo in questa puntata, l'ultima per il 2019, di Salute, la trasmissione mensile realizzata in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione, azienda toscana, USL Nord-Ovest. E partiamo dalla centrale del 118. 118 Livorno Pisa? Da dove chiama signora? Comune e via per favore. Mi dà il numero civico per cortesia? E' un cognome arcitofono. Che cosa succede? Chi si sente male? Siamo con la dottoressa Donatella Catarsi, medico del 118. Ci avviciniamo alle feste. Che indicazioni dare ai telespettatori che hanno bisogno di rivolgersi al 118? E soprattutto quando chiamare e quando non chiamare? Il 118 è un servizio sanitario di emergenza e urgenza che è attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno e che quindi non va in ferie, non va in vacanza, neppure per le festività natalizie. Quando chiamare? Chiamare per tutte quelle che sono le patologie che possono riguardare dolore ademinali, dolore toracico, cefalea, difficoltà respiratoria. Quindi quelli che hanno una certa importanza. Ovviamente non chiamare se la persona presenta uno stato febbrile, magari anche esclusivamente febbre oppure febbre legate a tosse. Che questo è più di competenza del medico curante o della guardia medica quando il medico curante non c'è. Il messaggio che sicuramente deve passare è che quando l'utente chiama, prima di tutto deve sapere che dalla parte del cornetta c'è un sanitario che risponde. È sempre un infermiere adeguatamente formato proprio a questo tipo di lavoro e il quale farà delle domande. E bisogna considerare queste domande non come una perdita di tempo, non è una perdita di tempo, è più siamo corretti nel rispondere, calmi nel rispondere, più adeguato sarà sicuramente il servizio che noi possiamo dare. Perché è importante prima di tutto sapere la localizzazione, cioè individuare da dove uno chiama. Quindi nella calma del soggetto che chiama dirci il comune, non la provincia, il comune. Noi gestiamo tutta Pisa, tutta Livorno, comprese le isole. Quindi comune, l'indirizzo, quindi con via e numero civico. Ecco, dottoressa, è arrivata la chiamata, come attivate i soccorsi? Il soccorso viene attivato con l'invio del mezzo più idoneo, non guardando neppure quella che è la vicinanza, perché spesso c'è la necessità del medico, non sempre vicino sul posto. Allora inviamo quelli che sono i cosiddetti mezzi BLSD, che sono costituiti da personale del volontariato, adeguatamente istruito e formato. Ed anzi colgo l'occasione proprio per ringraziare tutte le associazioni di volontariato che ci danno una grossa mano nel soddisfare tutte le richieste. Colgo l'occasione e faccio gli auguri a tutta la cittadinanza da parte di tutti noi del 118. Abbiamo raggiunto il secondo padiglione, con me il dottor Alberto Camaiti, direttore dell'unità operativa di medicina. Ecco, vogliamo tranquillizzare tutte le persone che ci stanno ascoltando sulla continuità assistenziale che viene garantita nel periodo delle festività. Sicuramente il nostro sistema non va mai in ferie a tutti i livelli. Continuità assistenziale, 118, pronto soccorso e anche da parte nostra, se il paziente ha bisogno di un ricovero in reparto medico, faremo il meglio per assicurargli la migliore assistenza possibile. Una volta dimesso, il paziente ha una terapia prescritta e altre indicazioni? Sì, questo è veramente un momento critico, sempre. Forse lo è a maggior ragione in questo periodo in cui le persone, i cittadini, hanno la sensazione che vi sia un po' di vuoto assistenziale. Quindi noi saremo particolarmente attenti a questa fase, facendo un'adeguata prescrizione dei farmaci, appunto il paziente dovrà continuare, dando informazioni su come questi devono essere assunti, indicando eventuali controlli se necessari e programmando questi controlli in maniera tale che il paziente esca e si senta, tra virgolette, il più protetto possibile una volta ritornato a casa. Dottore, è doveroso un accenno anche alle vaccinazioni. Quanto è importante vaccinarsi? È molto importante. Tra qualche settimana ci sarà il picco di diffusione del virus influenzale, per cui chi non lo avesse già fatto deve assolutamente farlo. In questo modo saranno molto ridotte le potenziali complicanze legate ad una infezione da parte del virus. I soggetti più a rischio? I soggetti anziani, i soggetti affetti da polipatologie, prima e fra tutti il diabete, lo scompenso cardiaco, la broncopneotetia cronica ostruttiva. Ecco, in questi pazienti e nei loro familiari è particolarmente indicato. Siamo al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno, il reparto operativo di un ospedale dove vengono gestite le emergenze. Dunque H24, siamo con il dottor Alessio Bertini, direttore del reparto del pronto soccorso. Cosa vuol dire gestire una realtà come questa, dottore? Vuol dire cercare di essere sempre pronti ad affrontare quello che la giornata ci presenta. Significa cercare di avere consapevolezza del numero di pazienti che si presenterà e organizzarsi per offrire il meglio che possiamo, sapendo che le oscillazioni che a volte si presentano possono creare qualche momento di crisi. Ecco, ci avviciniamo al periodo delle festività, un periodo particolarmente delicato. Le modalità di accesso? Le modalità di accesso sono sempre le stesse, nel senso che il pronto soccorso è una struttura che dovrebbe essere riservata ovviamente all'emergenza, alle situazioni indifferibili. Sappiamo anche che viene costantemente utilizzato anche per condizioni che forse potrebbero trovare risposte anche fuori dal pronto soccorso. Io credo che in questo periodo in cui dovremo attenderci l'influenza e quindi un po' più di affollamento dentro gli ospedali e dentro il pronto soccorso, a maggior ragione la richiesta è che la coscienza della popolazione provi a fare un po' di autocritica, nel senso che laddove le stesse questioni possono essere affrontate in un altro contesto, mi viene in mente i colleghi della medicina generale, la continuità assistenziale, gli ambulatori della specialistica, beh, forse è giusto che ci si pensi. Poi il pronto soccorso è aperto 24 ore al giorno, quindi chi viene qua ha una qualche forma di risposta proviamo a offrirgliela. La consapevolezza è che sono sempre periodi molto delicati e quindi qualche momento di difficoltà ce lo aspettiamo e siamo organizzati per gestirlo al meglio. Il personale è sempre operativo, un ringraziamento è doveroso? Il ringraziamento va, sì, ai ragazzi, agli infermieri, ai medici che effettivamente per tipologia diciamo di questa struttura, trascorrono una buona parte delle feste e delle notti al lavoro quando magari il resto del mondo, però questo è comune anche ad altre categorie, non è solo la nostra, ma insomma sicuramente meritano un ringraziamento in questo senso perché anche in un momento in cui non è semplice trovare il personale per il pronto soccorso, insomma avere garantito questa funzione credo che vada a merito degli operatori. Il direttore dell'ospedale di Livorno è il dottor Luca Carneglia. Dottore, quali sono le misure messe in atto dall'azienda per evitare situazioni di sovraffollamento? Esiste intanto un'attività intensa di monitoraggio che ci permette di conoscere in qualunque momento le persone che sono presenti al pronto soccorso e da quanto tempo stanno sostando al pronto soccorso. Da tenere in considerazione il fatto che al pronto soccorso vengono comunque svolti tutti gli accertamenti diagnostici e vengono avviate ed eseguite tutte le cure di cui quel paziente ha bisogno. Questo naturalmente non vuol dire che il paziente debba rimanere al pronto soccorso, anzi il paziente deve andare sul posto letto nella specialistica di riferimento il prima possibile. Le azioni che ha messo in campo l'azienda, oltre al monitoraggio, sono intanto azioni propedeutiche per evitare che il sovraffollamento possa dipendere da un difetto di dimissioni dell'ospedale. Quando si definisce una situazione di sovraffollamento ci sono dei parametri? Sì, ci sono dei parametri stabiliti a livello regionale che sono quando almeno il 30% dei pazienti aspettano al pronto soccorso il ricovero per più di 16 ore consecutive. Che misure scattano? Scattano una serie di misure, alcune che sono legate al fatto di avere i posti letto in ospedale, quindi di dare la priorità per certi esami che magari sarebbero dilazionati, esami di diagnostica, esami che vengono fatti prima della dimissione, dare la priorità ai pazienti ricoverati in modo che questi esami vengano svolti tempestivamente e quindi il posto letto possa essere reso disponibile subito. L'altra misura è solo, ad esempio, il posticipo dei ricoveri programmati. Ci sono ricoveri urgenti come quelli delle persone che arrivano al pronto soccorso e ricoveri programmati, quindi ricoveri che possono essere fatti anche la prossima settimana. In quel caso i ricoveri programmati non vengono svolti e si dà la precedenza ai pazienti che arrivano al pronto soccorso dal bisogno di ricovero urgente. Altre misure sono poi quelle dell'attivazione di personale aggiuntivo per riaprire dei posti legge aggiuntivi perché in ospedale abbiamo alcuni posti letto che possono essere attivati in caso di emergenza, assumendo personale interinale oppure attraverso altre misure contrattuali previste per poter assistere questi pazienti sia per quanto riguarda i medici sia per quanto riguarda gli infermieri. Grazie a tutti.